Come si salveranno? Come l'avete anche forse sentito dei nomi, nazisti e antinazisti, cioè Thyssen era stato un industriale che aveva, oppure come Schacht che era stato il banchiere che aveva finanziato l'ascesa di Hitler, che appunto ferventi nazisti a fianco di famosi antinazisti come Schuschling, come Blum oppure come, prima non l'ho nominato, il generale, il generale Sante Garibaldi che era il nipote dell'eroe dei due mondi. Mirella Serri presenta al Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino Gli Invisibili, possiamo considerarlo un romanzo storico edito da Longanesi che parte da una data. Il 28 aprile del 1945, finisce a fine guerra, a fine seconda guerra mondiale, arrivano dei Pullman in un luogo dell'Italia con dei prigionieri speciali, considerati gli invisibili. Che cosa era successo? È successo che questi Pullman portano quello che potremmo chiamare un tesoretto di Hitler e di Himmler, cioè sono personalità molto importanti all'epoca che fin dall'inizio della guerra, cioè dal 1939-40, Hitler aveva rinchiuso nei lager del Reich perché pensava o a una pace in cui, come dire, questi prigionieri importanti, queste personalità, lui le avrebbe esibite di fronte al mondo intero come appunto una sua raccolta di personalità appunto di grande rilievo oppure adesso che invece vedeva che la guerra stava finendo avrebbe voluto scambiarle con gli alleati proprio in vista di una resa. e li portava, li stava, li hanno portati in Alto Adige, vicino Cortina, Villa Bassa perché lì, secondo Hitler e Himmler, in quella zona si sarebbe dovuto svolgere la trattativa con gli inglesi e con gli americani, cosa che fortunatamente poi non è avvenuta perché appunto i prigionieri speciali sono stati liberati dalle truppe alleate. Chi erano questi personaggi? Appunto questi personaggi erano uomini politici molto importanti come l'ex cancelliere austriaco von Schuschnig, come l'ex primo ministro francese Leon Blum, come l'industriale Thyssen, come il banchiere tedesco Schacht, o come l'italiano Sante Garibaldi che era un noto antifascista o come l'ex capo della polizia di Salò, Tullio Tamburini e il suo vice Eugenio Apollonio. Ecco, come tecnica, diciamo parlando un attimo della tecnica narrativa di questa storia perché in realtà poi è una storia vera, e lei parte dalla fine, cioè parte dalla fine della guerra e anche diciamo facendo intuire credo al lettore di una specie di lieto fine che ci sarà in qualche modo a questa vicenda per poi raccontare la storia di tutti questi personaggi che lei ha citato. Eh sì, io inizio diciamo dalla fine annunciando che poi questi prigionieri vengono liberati dagli alleati e poi ripercorro la prigionia, la vita di alcuni di questi 139 prigionieri. Ce ne sono alcuni di questi prigionieri che invece non arriveranno speciali, che non arriveranno mai a Villa Bassa, come per esempio il figlio di Stalin che muore suicida in campo di concentramento, oppure altri che arrivano a Villa Bassa e poi vanno via subito cercando di ricongiungersi ai partigiani come il nipote di Molotov, oppure come Mafalda di Savoia che era la moglie del principe d'Assia che invece muore anche lei in campo di concentramento, mentre suo marito, il principe d'Assia, arriva a Villa Bassa, poi viene portato dagli americani in campo di concentramento poiché era stato un personaggio di grande rilievo nella politica hitleriana molto vicino a Hitler. Ecco, a me sembra anche di poter dire che nel raccontare una vicenda come questa, che come lei diceva prima durante la presentazione è abbastanza passata inosservata sui libri di storia, è anche un modo per continuare a parlare di una vicenda della nostra storia molto recente per non dimenticare. Sì, questa vicenda che poi in realtà ha il suo epicentro proprio negli ultimi mesi di guerra fa vedere come i nazisti tentassero di nascondere le tracce, di cancellare, di togliere, come dire, di cancellare le tracce dei campi di concentramento, delle camere a gas, delle baracche, di tutto. Naturalmente questo non era possibile e i prigionieri speciali, proprio anche in quanto testimoni speciali, non erano prigionieri comuni, la loro parola valeva moltissimo, erano anche loro poi dei testimoni che potevano, speciali e fastidiosi, che avrebbero potuto essere eliminati durante il loro viaggio dai lager del Reich fino a Villa Bassa. Erano sorvegliati da 80 SS, poi fortunatamente non verranno eliminati, ma in ogni momento la loro vita correva a un serio rischio perché avrebbero potuto raccontare tutto quello che avevano visto. Molto bene, quindi Gli Invisibili pubblicato da Longanesi. Ringraziamo Mirella Serri in bocca al lupo per il suo libro. Grazie. Grazie a voi, grazie mille. Samuele Marabotto, prime 10 pagine. Grazie a voi, grazie a voi.